Nonostante ci sia stato anche l'impegno dei leader romani del centrodestra per cercare una soluzione, la quadratura del cerchio per la sostituzione in giunta regionale abruzzese del defenestrato assessore Mauro Febbo non si è ancora trovata. Martedì potrebbe essere il giorno buono per la fumata bianca, a meno di improvvise accelerazioni delle trattative nel weekend. Lega e Forza Italia restano i ferricorti, troppo pesanti da digerire le scorie delle elezioni amministrative, troppo brucianti le sconfitte a Chieti ed Avezzano. Proprio la debacle di Chieti è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, soprattutto perché il delfino di Febbo, Bruno Diorio, non è riuscito ad accaparrarsi il secondo turno per una manciata di voti. Di lì il conto alla rovescia con il pressing leghista che si è fatto sempre più forte dentro e fuori i palazzi della regione dopo la sconfitta di Di Stefano, fino alla decisione di Marsilio di revocare a Febbo le deleghe al turismo e alle attività produttive. Ma la spaccatura sembra più profonda di quanto potesse apparire qualche giorno fa. Nel centro-destra potrebbero esserci movimenti non solo in giunta, ma anche tra i partiti, con alcuni esponenti di spicco della Lega che sarebbero pronti a lasciare il carroccio come Campitelli. C'è poi la questione Fioretti. Sarebbe lui il designato a lasciare la giunta, ma non ci sta. Parallelamente Pietro Quaresimale spinge per un posto nel governo regionale, quello che gli era sfuggito all'indomani del voto, nonostante l'ottima performance ed essendo stato il più votato. In Forza Italia da Mario sembra in poll per l'assessorato, anche perché il posto da capogruppo per stessa ammissione del diretto interessato, e cioè Mauro Febbo, è già stato prenotato e sarebbe proprio nell'emore del divorzio consensuale da Marsilio. Spinge per entrare a Palazzo dell'emiciclo anche l'ex sindaco di Atri, Gabriele Astolfi, che potrebbe beneficiare del rimpasto di giunta e mettere così a frutto il buon risultato delle regionali che gli è valso il posto del primo dei non eletti. In tutta questa girandola di nomi e posizioni da ricoprire, il centrosinistra va all'attacco, criticando la tempistica di una resa dei conti che si scontra con l'emergenza Covid-19 e che rischia di attirare su di sé attenzioni che dovrebbero essere dedicate, dice il capogruppo del Partito Democratico in regione Abruzzo, Silvio Paolucci, ai veri temi urgenti della vita dei cittadini. Intanto tutto è fermo, a dir la verità già tutto era lento, adesso tutto è fermo e dico io tutto è nel pallone perché i debiti fuori bilancio si fanno per la convenzione illegittima con il Napoli ma i grandi problemi non si risolvono. Le liste d'attesa per le famiglie e i bambini in fila sotto l'acqua per avere un tampone o per i vaccini che per esempio non ci sono e tante persone anziane debbono attendere che i medici vengano riforniti. È davvero vergognoso questo sconvolgimento delle priorità per questa giunta e nel frattempo la crisi non si riesce a risolvere, addirittura si è ventilata l'ipotesi di mettere un secondo assessore esterno dopo aver incrementato del 20% lo stipendio dei direttori delle ASL e del 10% di tutti i dirigenti e dei direttori regionali.